Intanto i calabresi si interrogano sulla natura di questa impressionante escalation di fuoco. Il Presidente della Regione lo dice, chiaramente c'è del dolo, oltre che l'incuria della gestione dei territori. C'è un disegno di cui si dovranno occupare ben altre istituzioni, perché abbiamo visto come appena si finiva di spegnere un incendio in una determinata area, ripartiva da un versante opposto sempre nella stessa area. E quindi c'è qualcosa che ci dovranno dire probabilmente altre istituzioni.